Sì, grazie Paolo per la linea, 35esima edizione della Tendopoli che richiama centinaia di giovani qui al santuario di San Gabriele della Dolorata. Doveva iniziare alle 18.30 con l'incontro con il Vescovo di Terra, ma Monsignor Michele Seccia è slittato di qualche minuto l'inizio di questa Tendopoli e questo per il momento non ci permette di avere ospiti, dovevamo avere sia il Vescovo Seccia che Francesco Cordeschi che è l'ideatore e il creatore di questa Tendopoli. Tema quanto mai attuale e scottante è quello di quest'anno, la famiglia con vari incontri e varie situazioni in cui i ragazzi potranno discutere, parlare e anche incontrare delle personalità per trattare varie sfaccettature di questo tema. La Tendopoli andrà avanti fino a sabato, la chiusura sabato mattina alle 11 con la Santa Messa celebrata quest'anno dal Cardinale Edoardo Menichelli che come al solito un cardinale viene a chiudere la Tendopoli, quest'anno tocca a Menichelli, Tendopoli che arriva praticamente pochi giorni prima della festa di San Gabriele che c'è il 30 agosto e nemmeno a farlo apposta fra pochi giorni carrà un anno della dedicazione del santuario, la dedicazione ufficiale e la consacrazione del nuovo santuario a San Gabriele della Dolorata ricorderete la diretta televisiva su TV6 della Messa che fu allora celebrata dal Cardinale Egno Antonelli io sto guardando per vedere se dovesse arrivare qualcuno degli ospiti che avevamo invitato era annunciato il governatore della regione Luciano D'Alfonso, ex tendopolista che però per il momento non è arrivato era annunciata la sua presenza alle 18.30 qui al santuario però ad Alfonso per il momento non si è visto io Paolo direi di fare così allora, ti restituisco la linea, poi nel momento in cui dovesse arrivare qualche ospite io la riprenderei per sentire quantomeno le parole del Vescovo Seccia, a te la linea Paolo Sì grazie Paolo, eccoci qua come promesso siamo in compagnia del Vescovo di Teramo Monsignor Michele Seccia e del Rettore del Santuario Padre Natale Panetta, eccellenza 35esima tendopoli quest'anno un tema, dicevo prima nel collegamento, quanto mai attuale e scottante, la famiglia? La famiglia tenda di Dio, la tenda richiama il percorso che per 35 anni i giovani hanno fatto di formazione, di incontro, di riflessione non solo sulle verità di fede ma proprio sull'esperienza di Dio ecco perché quanto mai necessaria era questa riflessione sulla famiglia in un momento in cui per quello che vediamo come mentalità, come cultura, come modelli anche sociologici che vengono proposti pur lasciando a ciascuno la libertà di correre dovunque voglia andare dobbiamo ribadire, rimettere e fare scoprire ai giovani soprattutto che la famiglia nasce dal cuore di Dio per il credente, per il battezzato, per colui che si forma anche alla scuola della scrittura, dalla Genesi la famiglia nasce dalle mani di Dio ed è il segno anche dell'amore trinitario E la famiglia è anche al centro di tanti temi sociali in questi ultimi tempi, no? I temi sociali molte volte sì, sono quelli che emergono in superficie, sono quelli che attirano maggiormente l'attenzione, ma facciamo attenzione che proprio questi temi stanno pian piano erodendo quei valori che in passato hanno permesso alle generazioni che ci hanno preceduto di affrontare ugualmente gli stessi temi, con una mentalità, una disponibilità direi anche con una spiritualità molto più radicata. Quanto più l'uomo si allontana da Dio, l'uomo si allontana da se stesso. Lo ha ripetuto in tutte le lingue San Giovanni Paolo II, lo ha detto in un modo molto profondo Papa Benedetto, lo sta ripetendo con un linguaggio accessibile a tutti Papa Francesco. A proposito di Papa Francesco, una tendopoli particolare, questa perché cade nell'anno del giubileo straordinario. Ci prepariamo all'anno, al giubileo straordinario della misericordia e sono veramente rieto di dire che il luogo nel quale ci troviamo non può che essere per tutta la nostra diocesi il luogo della porta della misericordia, il luogo giubilare perché chiunque viene in questo luogo a qualunque ora trova dei confessori. Non si tratta tanto del segno della porta che è simbolica nella storia biblica, quanto di ciò che deve avvenire nel cuore, nella riflessione di ciascuno di noi per ritornare a Dio perché Dio è misericordia, ha ridetto con chiarezza Papa Francesco. Grazie al Vescovo di Teramo, grazie a Padre Natale Panetta. Un secondo, ricordiamo il 30 agosto, un appuntamento che si ripete ogni anno a San Gabriele. Il 30 agosto con Sua Eccellenza ci sarà la festa popolare di San Gabriele perché se il 27 febbraio può essere cattivo tempo, neve e altre cose, il 30 agosto speriamo non piova e tanta gente vuole festeggiare San Gabriele. Quindi a tutti invito a questo appuntamento. Grazie a Padre Natale Panetta, a te la linea Paolo, è tutto da San Gabriele.